Sono Chiara e faccio parte dell'Associazione Culturale Artù, un'associazione che è nata nel 2012 dall'idea di sei amiche, sei guide turistiche, che si sono ritrovate un po' per caso, un po' per fortuna, un po' per amicizia, una sera d'inverno a decidere di associarsi e di iniziare a lavorare insieme sul territorio. Artù è un gruppo di guide, un gruppo di storiche dell'arte e un gruppo di amiche. Nasce dalla nostra passione, dal voler condividere l'amore per l'arte, per la storia e soprattutto per il nostro territorio. Grazie a tutti. Grazie a tutti.